Da notare che io, dopo che ho cominciato la vostra cura, è precipitato il valore della pressione del sangue e ho smesso di prendere anche le pastiglie del sangue. Invece di prenderne una in terra, ne prendo metà. Prendendone metà è basso perché io prima portavo sempre 140 e 85 e 90, adesso mi trovo con 105 e 65.